Sottimo, arriva anche Mazzotta a sinistra, zona tiro, Sottimo e Michela manda in calcio d'angolo Brienza, palla alta per Galano, il pallone è buono, esce Bardi, è sicuro, palla buona per Floro Flores la mette giù, supera il portiere, Floro Flores arretrato, ma c'è Maiello, poi arriva Galano, Bardi prende il pallone Fedele, buon movimento e poi bella anche la palla per Brienza, dentro Floro Flores, ha preso il tempo all'avversario il cross arriva, Floro Flores e Bardi la manda in calcio d'angolo Salta Tonucci, colpisce male il pallone, Capradossi, ultimo difensore, sbaglia anche lui, regala palla a Dionisi arriva dentro anche San Marco, palla arretrata, San Marco, Michai para e poi San Marco anticipato al momento del tap-in c'è Brienza eccolo tira in porta a Brienza da Prelà, si sposta il pallone, non crossa, vuole il fondo, trova lo spazio, è anche il cross buono, secondo palo segna il Bari con Furlan, da esterno sinistro a esterno destro, e gara sbloccata, 1-0 Piamozzi non è finita, altro cross forte, Dionisi la gira, sull'esterno della rete, vuole il calcio d'angolo, il calcio d'angolo c'è cala il Sipario, il Bari vince, contro il Frosinone, 1-0 però